Ciao a tutti! Oggi vediamo un altro gioco di attivazione mentale, molto carino. Potete farlo anche utilizzando un tubo dello Scottex, ovviamente questo è un po' più grosso e resistente, facendo dei tagli orizzontali nel tubo in modo da poterci infilare dei cartoncini. Come funziona questo gioco? Si parte con un solo cartoncino, per renderlo più semplice. Metterò un premio qua dentro che si fermerà sul cartoncino. Io terrò il tubo a pinta e lei, per raggiungere il premio, dovrà togliere il cartoncino. A questo punto il premio cadrà. Una volta che saprà farlo con un solo cartoncino, posso utilizzarne di più, due, tre, così via. Se siete molto bravi col bricolage, potete anche attaccare il tubo a un supporto in modo da non doverlo tenere in mano. Ok, vediamo. Pinta? Vieni. Brava! Bravissima! Rivediamo. Anzi, facciamolo a un altro livello. Aspetta, aspetta. Seduta. Bravissima! Brava! La prima volta potreste lasciare il cartoncino molto fuori, in modo che basta che il cane lo tocchi un pochino e il premio caschi. In questo modo il cane capisce che deve interagire con questa parte dell'oggetto. Usiamo adesso due livelli. Sì, sei pronta, pinta? Brava! È qua! Bravissima! Bravissima! Supercane! E ora la sfida è impossibile! Tre livelli! Bravissima! Supercane! Brava! Baccio! Buon divertimento! Ci vediamo alla prossima! Ciao! Ciao!